ahidi cosa vuoi fare nonno mi insegni a fischiare quel fischio ignorante che fai ma queste sono cose cozzali fischi cozzali dai insegnami il fischio cozzalo fischio che cazzo di fischio che svolacchiano la pernecchi ma non è neanche stato lo che dice sta creatura vabbè mi insegni l'eco cioè come far rimbombare la voce nella valle con una bella gastema ma certo rimane ma sicuramente qualche scena per malo si può pensare che agli nonno ma mi hai portato un regalo ecco una bella focaccia con pomodori microchip e un cellulare così puoi giocare a minecats e magari vederla a casa di carta gesso wow una focaccia tecnologica incredibile che abbiano messo un cellulare in una focaccia speriamo speriamo che mangiandola non mi venga un tumore oppure il capricorno no il capricorno forse volevi dire il cancro ah sì vabbè cancro bilancia però i microchip non danno proprio di niente haidi che schifo non leccare il microchip lo sta il silicio lo stranzio te pichi malati dalla droga l'adsl l'ids fastweb l'idsl i cazzetti me haidi dai un bacio a nonno che devo andare a raccogliere le stozzere non è possibile nonno c'è il virus al massimo ti posso dare il gomito che il virus il virus è sparito no il covidi sta ancora non ce n'è covidi non ce n'è covidi il virus non è sparito oh il virus è sparito è sparito sto sicuro che il virus è sparito a meno che io non sia rimbambito ma credo che il virus è sparito oh è sparito oh il covidi no il cerchino è fornauto finalmente adesso io sono capito sarà che il virus è sparito oh oh non ce n'è covi di non ce n'è covi... oh sì quello che stavo dicendo non ce n'è covi non ce n'è covi non ce n'è covedi non ce n'è covi non ce n'è...